Ci troviamo al nuovo di Castelfrentano, dalla settima giornata del campionato regionale seconda categoria Gironè, si affrontano qua al nuovo la Virtus Castelfrentano con la classica maglia giallorossa e lo spotting altino con la maglia bianco-verde, 0-0 fino adesso, la gara è iniziata da circa 10 minuti, scassi un quarto d'ora, ecco da questo lato c'è il gruppo degli ultras capeggiati da Cristian Ecco il portiere che va a raccogliere il pallone, il portiere ospite, qua riprende la gara con l'arbitro in maglia classica Ecco i nostri ragazzi della curva, chiamiamo la curva ma è l'altra tribuna non omologata, la prima tribuna originale Fatevi sentire su E io mi devo allontanare se no l'arbitro mi becca Ecco contropiede della Virtus, ecco pallone, pallone che si porta da Mario Ecco l'arbitro di Lanciano della sezione Aia di Lanciano, il signor Spadaccini, rimessa dal fondo Vecchio! 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 V alle ore 18 al campo Nicola Marcantonio di Cepagatti qua invece si sta giocando per la settima giornata del girone E di seconda categoria Virtus Castelfrentano Sporting Altino i nostri ragazzi in giallo rosso mentre la squadra avversaria con la maglia bianco verde come pubblico non è che ci siamo come al solito stanno sul corso o davanti alle cantine ecco contropiede ecco il portiere messa dal fondo insieme Grazie a tutti.